Ragazzuoli vi rubo solo 30 secondi, ascoltatemi un attimo così vi spiego tutto quello che c'è da dirvi Allora, intanto grazie per il mi piace che avete lasciato nello scorso video Detto questo proviamo a raggiungere di nuovo, 3000 mi piace, il prossimo episodio faccio XXL Quindi andiamo a fare una mega build, ancora devo decidere quale, però facciamo una mega costruzione Altra cosa fondamentale ragazzuoli, ooooh, sta per aprire il mio server, ve lo spoilerò, ve lo getto già nel video Ve lo spoilerò anche qua, si chiama free pixel, mc.freepixel.eu Stiamo settando le ultime cose, poi comunque sentite anche la prima parte del video che vi spiego molto bene Ultima cosa da dirvi, trovate sia in questo video sia nello scorso video Il link al download per scaricare il mondo della settima stagione Aggiornato all'ottocentocinquantesimo episodio, quindi tutte le modifiche che farò oggi nel video ovviamente non ci sono Detto questo ragazzuoli, buona visione, mi raccomando un bel mi piace Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft di la settima stagione 8.5.1 Allora, vi dico subito che troverete il download in descrizione sia di questo video che del prossimo video, quindi non vi preoccupate Ci ho messo un po' perché la macchina su server l'ho dovuta scaricare e uploadare cose varie su, giù, di là E ci abbiamo messo parecchio Ho un sacco di news da dirvi Ma prima ragazzuoli lasciate un bel mi piace, altri 3.000 mi piace e ci facciamo l'episodione XXL enorme Va bene, va bene, va bene, non divaghiamo, ho un sacco di news da darvi molto molto interessanti La prima Apre tra poco il nuovo server che si chiamerà FreePixel Però ha scritto così FreePixel Ok? Esatto, aprirà FreePixel È un nuovo, è il mio nuovo server Ci stanno lavorando, ci saranno per ora due modalità ma ne abbiamo intenzione di aggiungere tante Sarà una figata Fidatevi di me Intanto, intanto vi dico che sto cercando staff Allora, ci sono i posti da staff solamente Per Helper Quindi non iniziate a chiedere admin e madonne varie Perché ovviamente l'admin è un grado un po' più alto Che col tempo magari, col tempo raggiungerete Però col tempo non iniziate a dire È meglio No Mi sono raccomandati gli altri developer che faranno i provini Che dice No, però magari non Oddio, se no, che ansia Così Va bene, mi raccomando ragazzuoli Conto su di voi Ci servono una decina di helper Quindi Le possibilità ci sono Ora, dove fare i provini? Exactly, exactly I provini li faremo su Questo lo vediamo Questo lo vediamo Su ts.freepixel.eu Esatto Qua sopra Ci saranno ovviamente trovate tutte le info in descrizione In tutti i casi Se loggate domani 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 Venerdì Ci sarà una stanza fatta apposta Voi mettete lì E piano piano Ci saranno delle persone che si smazzeranno i vari provini Potete trovare anche Cioè, sicuramente io sarò la A vedere chi c'è Chi non c'è A sentire qualcosa Magari a qualcuno di voi Il provino glielo faccio anch'io Quindi mi raccomando ragazzuoli Perché la buona uscita del server Dipende ovviamente Anche da voi Allora 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 Però adesso non dobbiamo divagare Ovviamente Non dobbiamo divagare Perché dobbiamo restare concentrati Su quello che dovremmo fare Dovremmo fare Leviamo il birch Facciamo così E il genere Facciamo una crafting Ora Il tetto Come ben vi avevo detto Lo volevo fare in colorazioni particolari Blue terracotta E birch wood Ok Quindi facciamo un po' di slabines E iniziamo a fare una robina del genere Del tipo così Poi questo lo possiamo tranquillamente anche togliere E faremo il primo giro Di slabini O il primo giro di slab Poi dopo ci mettiamo una terracotta Poi le scale Alternando un po' Facendo una cosa abbastanza irregular Per vedere Che cosa viene fuori Poi facciamo le pareti Tutte belle Tutte easy Le pareti le devo fare In maniera diversa Però perché Non posso farle Come pensavo Col fatto che Ciliston brick Già le utilizzo Per il terreno Quindi dovremmo utilizzare Qualcos'altro Vabbè Fonte sega Non è un grande problema Sono caduto Bene Primo giro Tra Così Birch slab E Cosa E questa che sarebbe Blue terracotta L'abbiamo fatto Ora vorrei fare Il primo giro solo di scale Ecco Il primo giro di scale Sarà forse un po' Più complicatello Perché Dobbiamo fare una cosa del genere Questo lo dobbiamo togliere Ovviamente costa di più Ci vuole un pochino Un pochino Di più Però Ovviamente Noi non ci arrendiamo Iniziamo a mettere Le varie scale Questo perché Ho voluto fare sta cosa Per intanto Far sembrare Il tetto meno regolare Perché se lo fai Tutto con gli slab Tutto con queste cose Oddio Cazzo È tutto uguale Ed è bruttissimo Fidatevi di me Quindi tentiamo Di arredare Insomma di decorare La casa In maniera diversa Poi per quanto riguarda Le decorazioni Quelle estetiche Un po' più particolari Le faremo sicuramente dopo Adesso ci godiamo Queste Bellissime scale Ne facciamo Al tre otto Vediamo un po' Se di qua bastano otto Perché di là erano quattro Sono quasi bastate Quindi magari otto Ci arriviamo Ne facciamo al tre quattro Poi siamo a posto Tre Tac Tac Effettivamente Effettivamente potrebbero bastare Effettivamente potrebbero bastare Comunque Che poi dobbiamo stare attenti Ci servono altre slab Insomma andiamo un po' a risparmio Che non ce l'abbiamo tanto di legno Di birch Eh di birch Perché Siamo messi malino Poi ovviamente ogni volta che vai a restringere È sempre di meno Adesso finisco qua Ah so che bisognerà farci un po' all'occhio Eh Boni Non vi preoccupate Fidati del vostro caro free Del vostro caro free Che non vi deludio Ok Eh Ah qui ci facciamo un giro in mezzo Una cosa del genere E qui li lasciamo alti Ebbene sì Voglio fare una roba del genere Vediamo se premi alla fine Comunque il tetto è pressoché fatto Poi andremo a studiare l'illuminazione E togliere tutta la clay Tutta la clay Però adesso questo era un passo importante Che dovevamo fare Perché se no qui Non ci siamo Ok 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 Va bene va bene va bene Poi questo lo andremo a collegare il tutto Adesso vado a prendere tutti i pezzi Vado a chiudere tutte ste parti A fare un'altra po' di blu terracotta Però guardate che alla fine da fuori Potrebbe sembrare carino Dobbiamo certo Pensare a come fare Ecco io questo Perché io questo ce l'ho messo Qui vediamo se si vede da sotto Perché se non si vede da sotto Da sotto si vede E la tocca dentro così Niente Eh È bruttissima Una cosa infam Brutta Una cosa mostruosa Poi qui è diverso Qui c'è un pezzo di cobblestone Allora ragazzoli Allora 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 Mi son preso un attimo Queste cose qua Quante sono? Due Quattro Non mi basta mai Volevo prendere qualcos'altro Perché mi è venuto in mente Appunto come fare Quella parte di Voilà Tac Sei E me ne servono altri due Due pezzi Due pezzi Due pezzi Ce ne abbiamo qua due pezzi Tac L'ultima parte per chiudere Tipo finestroni Esatto Esatto Riprendendo la parte sotto Perfetto Molto bene Il vetro Siamo carenti Siamo carenti di vetro Ma mica neanche tanto Perché alla fine Alla fine ci serve Un po' di bombilla L'abbiamo con un po' di ossa Ce li abbiamo Quindi andiamo tranquilli Fai così Fai così E va bene 16 pezzi Non sarà tantissimo Ma non è neanche poco Questo lo mettiamo qua Questo pezzo di bombilla Lo investiamo tranquillamente Non vi ho fatto vedere Il campo di grano Corri sepolto In un campo di grano Non è possibile Dormi sepolto Cazzo corri sepolto Comunque guardatelo un po' Eh carina Figa un botto Eh figa un botto C'ho passato un botto di tempo Non avete idea Non avete idea Purtroppo non ce l'avrete nel backup I'm so sorry I'm really 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 sorry Ok Hey guys E questo qua La cosa che faremo Sarà identica Fare a fare a questo E l'andremo a fare Da qui però Perché se no A parte che dio santo Vabbè Vediamo Vediamo Da che alto pure PPU Sono 5 Queste era 4 Ricordi logica Esatto Quindi già dovremmo Cambiare qualcosina Però vabbè Non ci demoralizziamo Questo lo facciamo così Non ricordo bene Ok E poi ci devi mettere Ah non c'era La del gluston Ero convinto Ci fosse Beh di allora Con vita ci fosse La del gluston Boia Ok That's ok Poi facciamo magari Una cosina del genere Una cosa very easy Qua sopra lo possiamo Contornare tutto di quarzo Ma no Ci facciamo un po' di vetro Ci lasciamo Se io partissi invece da qua Proprio in tutto E per tutto Un bel finestron Così e così E va bene Partendo poi Una roba del genere Non abbiamo ancora finito Ovviamente Facendo una Cosa così Qua sotto Eh no Qua sotto il quarzo Mi ci va per forza Perché se no Poi mi si è brutto Che così Questo è qua così E questo qua così Non in questa direzione Ma nell'altra Però poi mi tocca Far la striscia rossa Tutta di qua E farla uguale qui Ma qui che cavolo Faccio uguale Che asimmetricissimo E chissima E chissima sì Perché porca miseria Allora intanto Questo è tutto così A parte questo in mezzo Che il terzo sarebbe Ci mettiamo questi Tac Uno Due No E uno Poi metti questo Dammi il quarzo Tac E poi fai così È giusto Questo ci basta Beh che perché Di tempo di quarzo Si rimedia Assolutamente Non è difficile Qui in mezzo Ci mettiamo questo A parte questo Non mi piace Oddio Sto ferrovia Faccio passare Da un'altra parte Senti qui è terrificante Facciamo una cosetta Un po' più carina E elegante Poi questo alla fine Lo possiamo anche Non mettere Perché è brutto Eh esatto così Così la teniamo così La teniamo così Ci mettiamo il vetro E siamo a questo Che pure illumina un pochino C'è la glowstone Mamma mia di mezzo Che ne so Che vedevo di Se vi piace Signori sono felice E contento Ok per ora Lasciamo così Basta Va bene non è male Anzi In mezzo Va bene Non è malissimo Non è malissimo Ci si può lavorare Ci lavoreremo comunque Ci lavorerò io un po' Off camera Così lo trovate bello Che è finito Ci lavorerò anche sui carpet Così facciamo tutta la stesa I carpet fino a qua Questi le allunghiamo a qui Ecco questo no Per questo per esempio Non si può ottenere Vedremo trovare un altro sistema Poi anche qui Ci mettiamo un po' di vetrate Con qualche ingresso Molto carino Con la terrazza Che si può andare su Magari Magari Pensavo di aprire Addirittura un'altra scala Verso una terrazza Che va dall'altra parte Perché lì ci vuole fare una torre Comunque su tutte altre cose Va bene ragazzi Penso che per questo video Posso tranquillamente essere tutti Vi ringrazio Anzissimo la visione C'è un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se vi avete fatto Di condividere i video Su facebook E famicione persone Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram E Telegram Come al solito Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti